Arriva nel bel mezzo di una situazione già drammatica per Sciacca la notizia che è stata ridotta la già deficitaria fornitura idrica alla città per fare fronte ad un guasto che riguarda l'acquadotto Garcia. 20 litri al secondo del serbatoio di Fontana Calda saranno destinati al Favara di Burgio. Fornitura ridotta non solo a Sciacca ovviamente ma anche a Licata, Portempedocle, Real Monte, Siculiana e Ribera. Conseguenza la distribuzione idrica subirà ulteriori slittamenti e limitazioni. Lo stop dei fornitori di acqua con le autobotti giunta al quinto giorno consecutivo sta aggravando la situazione. Stamattina si sono riuniti amministratori di condominio e titolari delle ditte che forniscono acqua. Allora lei amministra un condominio in contrada Isabella che l'ultima volta che ha ricevuto l'acqua è stato? Il 25 maggio. Domani sarà una settimana esatta? Domani sarà una settimana esatta. Il turno era stato scritto per domani ma stamattina ora compare scritto il rinviato e non ci sono notizie né di sapere se c'è un problema, c'è un guasto e quindi quando questi miei condomini riusciranno ad avere nuovamente l'acqua e sappiamo tutti che i tempi poi di rifacimento degli invasi sono di almeno un paio di giorni quindi la situazione diciamo igienico-sanitaria è veramente preoccupante. Loro hanno finito l'acqua giovedì mattina e non possono nemmeno rivolgersi alle autobotte private data la situazione che c'è in questo momento. Fanno notare i manifestanti che qualsiasi ipotesi di convenzione tra AICA e gli autobottisti è un argomento da trattare nei prossimi mesi, non certo adesso che siamo ormai in estate. Andiamo avanti fino a settembre, a settembre tutti ci si siede attorno al tavolo e si discute ma affrontare questo problema oggi è una cosa veramente per me incomprensibile ecco andiamo avanti, guardiamo al futuro. E gli autobottisti spiegano i loro dubbi sulla necessità di fare una convenzione con AICA? Perché se è una convenzione che io mi devo rifornire da AICA per andare a servire i miei clienti a me mi sta bene, però se l'AICA mi dice che dovremmo fare una convenzione congiunta sia per l'atteggiamento sia per la fornitura per il loro conto questa cosa sinceramente non la vedo bene. Per un fatto economico, io come amministratore devo garantire la mia azienda quindi se io non riscuoto o non riscuoto nei tempi necessari ho problemi economici. In una convenzione lei dice questi poi quando pagano? Quando pagano? A otto mesi, a nove mesi? Però io devo affrontare gasolio, operai e tutto quello che viene dieci. Hanno dormito tre anni, come se avete visto ieri sera il Consiglio Comunale oggi si sono svegliati o così o pomì. A noi non sta bene. Siamo delle ditte autonome e private e vogliamo lavorare autonomamente se non ci viene concesso siamo a casa. Chiudiamo le aziende e Aica se è capace come ora per consigliare un'autobotte ci vogliono sette giorni sarà svegliata Aica, visto che è una cosa che funziona ben venga. Ci hanno riferito che Aica ha delle autobotte private che anche se noi non partecipiamo ci sono le autobotte di fuori private ma tutte queste autobotte private di Aica dove sono? Io non ne vedo. Ma dico non ne vedo oppure fanno la richiesta lo dicono qua ai condomini, all'amministratore le autobotte fanno la richiesta oggi e arriva dopo dieci giorni quando arriva. Gli amministratori di condominio di Sciacca hanno chiesto intanto un consiglio comunale aperto per permettere loro di rassegnare al consesso le proprie preoccupazioni e rappresentare la realtà dei fatti. Lei è amministratore di alcuni residenzi turistici che lavorano soltanto con le forniture di autobotte private ma è vero che li ha chiamati per dirgli di non venire? Sì, diciamo che ci sono dei residenzi che vengono approvvigionati esclusivamente con le autobotte perché tipo zona Maragheni non sono serviti dal servizio proprio completamente, non sono allacciati. Ci sono 40 famiglie che dovrebbero venire che di solito nel fine settimana vengono gli ho consigliato di non venire perché proprio siamo senza acqua. Gli autobotti sono fermi, non siamo allacciati alla rete idrica quindi non abbiamo assolutamente possibilità di prendere acqua. In mancanza di forniture da parte degli autobottisti privati se uno dovesse fare la richiesta ad AICA di avere un autobotte quali sono i tempi? I tempi sono lunghi perché normalmente bisogna telefonare o scrivere una PEC AICA manda un fontaniere, un dipendente per andare a controllare se la cisterna è piena, è vuota eccetera il fontaniere dà l'ok ad AICA, AICA scriverà poi o chiamerà l'autobotte per mandarlo Normalmente ci vogliono due o tre giorni. Oggi so che addirittura si sono allungati i tempi a sette o otto giorni per l'autobotte. Capite bene che se uno è a secco oggi non può aspettare sette giorni. Queste sono le procedure in questo momento chiaramente molto lunghe. Diciamo che la situazione è veramente drammatica quindi la vicenda che coinvolge già il comune con gli autobotti non fa che aggravare la situazione